Siamo amiche di Volumbrite, siamo qua al convegno sulla cannabis terapeutica e siamo in compagnia di Alberico Nobile e vi chiediamo di presentare brevemente la vostra associazione, cosa fate, di cosa vi occupate e quali sono gli obiettivi. Io mi chiamo Alberico Nobile, sono il presidente dell'associazione Deep Green a Taranto, un'associazione nata con l'obiettivo di promuovere la medicina alternativa mediante l'utilizzo di piante pitoterapiche, tra cui principalmente il nostro cavolo di battaglio è la cannabis terapeutica. Mi curo con essa da circa 23 anni in maniera illegale, in maniera legale da circa 3 anni perché ho la cannabis dallo Stato, dalla Regione Poglia in forma gratuita per fortuna. Questo è uno dei motivi per cui siamo privilegiati purtroppo, vorremmo che questo diretto fosse steso a tutta Italia, non solo la Regione Poglia, è un diretto riconosciuto e che deve essere garantito, è un diretto riconosciuto appunto da una legge che dovrebbe garantire il nostro diritto alla cura, dovrebbero garantirci la continuità terapeutica, ma purtroppo questo non avviene a causa di diversi motivi, tra cui l'approvvigionamento, tra cui la burocrazia, tra cui mancanza di formazione personale, tra cui a volte anche negligenza. Quindi il motivo per cui noi ci battiamo è quello appunto di avere una continuità terapeutica. Vorremmo autoprodurci appunto per sopperire le mancanze del farmaco, per poter anche scegliere ciò che dobbiamo piantare, perché gli strain non sono attualmente molto di moda, perché sono poche le persone che si possono permettere di fare ricerca o di coltivare. Chi lo fa lo fa sicuramente in forma non autorizzata come noi e per fortuna c'è chi lo può fare e può quindi cercare e non sempre avere la continuità terapeutica e poter avere un prodotto di qualità, a differenza di quello che tanti dicono, perché la standardizzazione non è altro che un prodotto ben finito, un prodotto di qualità che un bravo crover può avere indipendentemente. Buonasera Andrea Tricioglio, sono dell'associazione La Pientiamo, la Pientiamo di nome di fatto, la Pientiamo Cannabis Club, è un Cannabis Club che è nato da diversi anni proprio dall'urgenza dei malati, perché siamo rimasti veramente troppe volte scoperti dal farmaco e proprio di fronte alle tantissime difficoltà abbiamo trovato una soluzione. La Pientiamo appunto, qualcuno oggi la reputa ancora una disobbedienza civile, noi la reputiamo un gesto di logica vero e proprio, anche perché, ti ripeto, non le diamo la libertà assolutamente di nessuno. E proprio questa è la caratteristica che ci contraddistingue e che ci manda avanti sempre. Poi ho una caratteristica, sono anche un militante radicale anch'io, ecco, perché Rita Bernardini, con cui sul suo terrazzo è anche colpevole, Rita Bernardini, mi cresce tante volte, piante di cannabis, grazie Rita. Vabbè, comunque, proprio questa cosa è importante, perché noi ci ridiamo su, ma tanta gente va a finire veramente in carcere. Mi piaceva da impazzire Rita Bernardini quando diceva o arrestano pure me o liberano tutti gli altri. Chi dice una cosa del genere? Nessuno. Grande Rita. Solo questo. Voi siete saliti qui, dalla Puglia, per incontrare la realtà di Torino. Sono due condizioni simili, ancora un po' dissimili, ma volevamo sapere come l'incontro di queste due realtà cambierà un po' la situazione attuale in Italia. Come pensate che queste due realtà potranno cambiare in futuro, magari anche grazie alla loro coesione? Io penso che sia proprio il termine delle nostre associazioni. La pientiamo e seminiamo principi. Di conseguenza nasce automaticamente questa partnership, questo ponte dalla Puglia a Torino. Passiamo qualche volta anche da Roma, a Chiepiamo Rita Bernardini. E' importante, poi incontriamo altre realtà come oggi la comunità Don Andrea Gallo, anche qui da voi. Insomma, ce ne sono tante persone da incontrare nuovamente anche qui su, al nord. Quello che comunque vorremmo che uscisse da questo incontro è appunto una collaborazione tra diverse associazioni. Quello appunto di seminiamo principi di cui noi siamo venuti qui appunto per onorare e appoggiare perché gli intenti sono comuni. Vorremmo che qui in Piemonte la situazione andesse meglio e non solo qui. Il fine comune appunto è quello di unire più associazioni, di collaborare. Si vorrebbe fare una federazione per avere un maggiore potere di riconoscimento, per poter avere una linea comune in cui si fluesca in una maniera misurata e capace. Il fine comune deve essere quello appunto non solo della continuità terapeutica ma della lotta per l'autoproduzione perché per me è una cosa fondamentale a prescindere dalle distribuzioni farmaceutiche o meno. L'autoproduzione è una cosa che va a incedere su un riconoscimento della pianta. una pianta appunto discriminata, una pianta che deve essere riconosciuta, una pianta dei miglia e usi, una pianta che non va assolutamente previta ma che va assolutamente valorizzata. Questo è quello che vorremmo che emergesse appunto da questo incontro e vorremmo che emergesse agli occhi di tutti coloro che non sono informati e non conoscono la pianta. Grazie, grazie mille per la vostra disponibilità e buon viaggio. Una frase che si raccomandano sempre di dire chi coltiva va difeso. Grazie mille per la vostra disponibilità e buon viaggio. Grazie mille per la vostra disponibilità e buon viaggio.